Allora Sediamoci e parliamo da uomo a uomo Allora, il titolo mi pare abbastanza chiaro 4 partite, un gol solo 360 minuti 400 con i recuperi vari Un gol segnato solo Un gol che 9 volte su 10, come ho sempre detto, ti annullano Pensavo di andare a Parigi e vincere? No Pensavo di andare a Parigi e fare una partita superiore a quella del Paris Saint Germain? No Pensavo di andare a Parigi e fare schifo? Sì Pensavo di andare a Parigi e fare così schifo? No Allora io come dico da giorni a questa parte Perché poi quel cartello in live me l'avrete criticato tanto Però quel cartello lì Ha messo il sollevamento della Champions Quel cartello lì rimane fisso Fino a che non si siederà qualcun altro sulla panchina del Milan Perché noi non possiamo giustificare una persona Perché ha vinto uno scudetto con il Milan Io è da quando abbiamo perso 5 a 2 in casa col Sassuolo a gennaio Che quella partita me la ricorderò anche quando sarò morto E' da quel giorno che io ripeto sempre la solita cosa Il PSG a parte di mostrarti la superiorità Che quello Quella è una cosa abbastanza scontata Ti ha mostrato una cosa chiamata concretezza Perché il gol del 2 a 0 Di Colomoni E' arrivato al quarto tiro in porta Uno è stato una parata Due sono stati gol E uno è stato un gol annullato Giustamente annullato ma annullato E comunque L'irregolarità Non era di pesa Da un fuorigioco da cosa Ma da una cosa che è successa 30 secondi prima del gol Quindi Senza quello il gol sarebbe stato totalmente buono Ti hanno dimostrato che Quando tu arrivi in area La palla la devi mettere in porta Non c'è cazzi Eh ma quello Ma il passaggio Ti hanno dimostrato che tu Arrivi in area Cioè sono le basi Devi tirare Sull'1 a 0 Pulisic Ha una palla Cioè io Raramente vedo delle occasioni da gol Così chiare Come quella che ha avuto Pulisic E si è permesso Di sbagliare quel gol Un allenatore serio E non flaccido Come quello che abbiamo noi Dopo un errore così Quel giocatore fa 6 partite in panchina Ma non in tribuna In panchina E non tocca campo Neanche fosse l'ultima persona Da poter fare entrare Lui Il campo Per un numero Piuttosto consistente Di partite Non lo tocca Perché io Se devo vincere E barra pareggiare Una partita Non mi posso fidare Di uno come lui Io non mi ci posso fidare Contro il Newcastle Eh Sbagliato Due gol fatti Contro Borussia Dortmund La stessa persona Che stasera Ha sbagliato quel gol Ha avuto una palla Un rigore in movimento L'ha sparato in bocca al portiere Cucu Eze Che al novantesimo Ha deciso anche lui Di calciare addosso al portiere Stasera quel gol lì Che avrebbe rimesso Tutto sull'uno a uno Poi magari Il PSG avrebbe vinto Sicuro Ma almeno Prima di tutto Potevi Dimostrare Che mi sto sbagliando E due Almeno Te la giocavi Cambiavi l'inerzia Provavi a fare qualcosa Un minuto E mezzo dopo Hai preso il gol Del 2 a 0 E ti hanno dimostrato Cosa vuol dire Essere Concreti Io è da Allora l'anno scorso Davo una scusa Che la squadra Non si era rinforzata Che aveva perso Chi si Che aveva perso Una riserva Come Romagnoli Le attenuanti L'anno scorso C'erano Ma Punto primo La rosa Quest'anno è più forte Non c'è cazzi Cioè se Arriviamo ultimi In campionato La rosa è comunque Superiore a quella Dell'anno scorso Il problema È il gioco Che non è Uguale È Peggio Altra partita Passata A fare cross 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 È da inizio stagione Che andiamo avanti A cross E cross E cross E cross Sembra di Mi sento il giocatore Della Madrid Tutti cross Cross Uguale Solo cross Non Vengono Attuate Altre Soluzioni Se non Il Cross Poi Il giocatore Canaria Viene Leggermente Raddoppiato È ovvio Che il gol Non lo fai Però Se voi Voi Siete contenti Che in quattro partite Sia stato segnato Un gol solo E in totale Siano stati collezionati Quattro punti Io non so cosa dirvi Se questa è una cosa Che vi appaga Che dite Ah si beh Belmila No Allora Va bene Perché Io Nomino sempre Persone che Purtroppo la sezione Commenti è aperta E Molta gente Confonde Il diritto Di parola Con l'obbligo Che scrive Come puoi E questo lo ricorderò Finché sono Su questa piattaforma E ve lo ricorderò Ma Perché vinci 3-1 col Cagliari E polemizzi Perché vinci 1-0 col Genoa E polemizzi Perché vinci 1-0 col Verona E polemizzi Ecco perché polemizzo Perché Quelle cose Sono esattamente I presagi Di quello che poi accadrà Io posso capire Che il Milan Abbia un girone difficile Complicato E che non è certo Di passare Perché Per me Più che difficile È equilibrato E siccome È equilibrato Tu hai il dovere Di dare Il 2000 Per cento Non Hai Scusa Perché Perché noi avessimo Un girone come Quello di due anni fa Ve lo ricordo Ve lo ricordo Liverpool Atletico Madrid E Porto Con la rosa Di due anni fa Che tra parenti Si ha vinto il campionato Capirei Lì infatti Se Per chi mi seguiva Al tempo Dopo la partita Con Liverpool Disse Grazie ragazzi Siamo tornati In Champions League Dopo sette anni Dedichiamoci al campionato Avete fatto anche troppo Quelle furono le mie parole Guardate l'Inter L'anno scorso Bayer Monaco E Barcellona Hanno passato Il girone Eh sì Eh sì Ed è stato quello Che li ha portati in finale Non è stato il derby Non è stato L'Autoaro Martinez Non è stato Il porto Non è stato Quelli sono stati Hanno avvertito Girone E Eliminazione diretta Quello Li ha portati in finale Il girone Poi Un solteggio fortunato Siamo d'accordo Però Il girone Li ha portati in finale Noi Abbiamo rischiato Col Chelsea Dodicesimo In campionato E quest'anno Come volete Che vado a finire Se si vanno Europa League Si stappano Champagne enorme Però poi l'Europa League C'è anche Gli spareggi E saranno Altre fatiche Da aggiungere A tutta la merda Che dobbiamo subirci Dopo la partita Col Genoa Quella meravigliosa Partita col Genoa In cui sono stato Bersagliato Perché Faccio polemica Quando vinciamo Vi dissi Juventus PSG Napoli Se caviamo un punto È oro colato Perché siamo una scuola del caso Allora Non so se vi siete accorti Che non sto parlando della partita Se non quelle Proprio Cose spicciole Che ho avuto da dirvi Perché necessarie Però A me il risultato Stasera Come contro la Juventus È Marginale A me interessa La sostanza E la sostanza È che siamo penosi Che continuiamo a far giocare Gente come Krunich Ragazzi Continuiamo a far giocare Gente come Krunich Io Il giorno che Krunich Verrà venduto Io voglio vedere Primo dove va a giocare E quanto bene giocherà Io non ho parole Io sono veramente schifato Da tutto questo Ma ripeto Se a voi sta bene Buon per voi Vuol dire che siete in pace Con voi stessi Io non so cosa dirvi Ci vediamo domani Con una live reaction Che Non ha senso Una live reaction In sapore Che dovrò pure montare Ciao a tutti Grazie